Altro che corruzione, automobili, anelli, televisori, nulla di tutto questo, solo fraintendimenti, interpretazioni sbagliate delle intercettazioni, l'anello con diamante, solo un oggetto di poco valore, avuto a parziale saldo di un affitto non pagato, nessuna cricca abruzzese, insomma nessun comitato d'affari, la difesa degli stati, padre Ezio per l'accusa veramente della corruttela e figlia Daniela, assessore di missionario della Giunta Chiodi, ridimensionella, quadro accusatorio fatto in gran parte di intercettazioni telefoniche e ambientali e Abruzzo Engineering, essendo una società in house, è naturale che prenda i lavori dalla Regione, ma secondo l'accusa Daniela Stati si sarebbe adoperata per far inserire l'azienda in una ordinanza della Presidenza del Consiglio che definiva un elenco di ditte che avrebbero dovuto occuparsi di attività connesse alla ricostruzione, un interessamento che aveva la secondo fine di affidare attraverso l'Abruzzo Engineering, incarichi a ditte esterne, vedi quelle che fanno capo all'ex parlamentare Vincenzo Angeloni e all'amministratore di Selex Service Management, Sabatino Stornelli, il primo finito in carcere, il secondo con obbligo di dimorare a Roma, da tramite fra i due imprenditori e l'assessore facevano il padre Ezio Stati e il compagno Marco Buzzelli e la bufera giudiziaria, l'ambisce anche la Presidente della Regione Chiodi, non solo politicamente per il coinvolgimento in una inchiesta per corruzione di un proprio assessore, il GIP sulla base di alcune intercettazioni telefoniche sospetta che Abruzzo Engineering avrebbe commissionato consulenze allo studio professionale del Governatore, ipotesi categoricamente esclusa allo stesso Presidente che a margine del Consiglio regionale di ieri all'Aquila ha anche sollecitato alla magistratura una verifica per sgombrare il campo da possibili strumentalizzazioni e intanto si apre una fase che non si annuncia semplice di rimescolamento di carte nell'assetto politico regionale il Governatore ha tenuto per sé le deleghe della Stati ma è in dubbio la necessità di un rimpasto l'Aquila che già prima scalpitava per una rappresentanza in giunta, ora ci conta in Lizza, Luca Ricciuti e Gianfranco Giuliante, meno probabile Giorgio De Matteis, Aquilano ma dell'MPA